Il governatore Vincenzo De Luca aveva dimenticato di citare il Cilento negli scorsi giorni in occasione di interviste su reti nazionali, considerando soltanto la costiera amalfitana, quella sorrentina e le isole, scatenando poi l'indignazione tra gli operatori turistici cilentani che stanno facendo un ottimo lavoro per promuovere il territorio fino a pochi anni fa sconosciuto ai più. Fortunatamente però a ricucire lo strappo ci pensa il sindaco della Dieta Mediterranea Stefano Pisani che dopo l'incontro con il direttore generale dell'ASL di Salerno Mario Iervolino ha messo a punto il programma di vaccinazioni degli operatori cilentani. Pisani è stato promotore dell'iniziativa alla quale hanno aderito 12 sindaci dei comuni costieri del Cilento, Castellabate, Monte Corice, San Mauro, Cilento, Casalvelino, Ascea, Pisciotta Camerota, Centola, Ispani, Sapri, San Giovanni Appiro e Vibonati. Il Cilento tornerà ad essere meta turistica nazionale ed internazionale in assoluta sicurezza. Infatti da metà aprile partirà una campagna vaccinale destinata agli operatori del comparto turistico del Cilento con l'obiettivo di riavviare il motore di uno dei settori più importanti dell'economia del territorio a sud di Salerno. È indispensabile la messa in sicurezza dei nostri concittadini impegnati nel settore, ha detto il sindaco di Pollica. Dobbiamo garantire la sicurezza degli ospiti che spero molto presto torneranno ad affollare il Cilento. Dobbiamo tornare ad essere competitivi soprattutto per vincere la battaglia nei confronti della concorrenza estera che si è fatta sempre più agguerrita, come raccontano le cronache di questi giorni, ma per essere competitivi è necessario ripartire in sicurezza.